Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana Nel corso delle ultime sedute uno tra i provvedimenti più importanti è stato l'ok dell'Aula del Consiglio regionale alla proposta di istituzione dello psicologo di base La regione toscana istituisce la figura dello psicologo di base allargando l'offerta di servizi sanitari nell'ottica di una presa in carico globale della persona e della sua salute compresi gli aspetti psicologici e quanto prevede la proposta di legge approvata dal Consiglio regionale che definisce l'istituzione del servizio di psicologia di base all'interno di ciascuna azienda unità sanitaria locale L'atto approvato prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge la giunta regionale definisca le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base il fabbisogno per ciascuna zona distretto e le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti Questa legge sancisce un principio, un principio forte che il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti di conseguenza anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto e devono organizzarsi affinché le persone riescono a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta Il benessere fisico e il benessere psicologico concorrono, e questo l'ha detto a più riprese anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità al benessere generale delle persone e delle comunità perché poi è ovvio che le persone compongono le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità una rete di professionisti con evidentemente la regia del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta nel mettersi appunto in relazione con gli altri professionisti mettendo il paziente al centro è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte perché se voi considerate che è stato dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000 è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici, psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi a tempo indeterminato con il lavoro fisso è importante per tanti fattori perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown e conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base un supporto psicologico soprattutto per i più giovani che si sono visti rubare gran parte della loro gioventù in questi anni Un sicconvinto quello del gruppo di Fratelli d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio del 2021 che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari chiaramente siamo cautamente ottimisti nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento attuativo di questa proposta di legge che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione Sì, un successo che viene da lontano, l'iniziativa parte da quando avendo approvato il piano sanitario regionale nel 2019 abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale, è un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti e che entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale Lo psicologo di base secondo noi è diventato ormai essenziale non soltanto per aiutare le persone nella gestione di quelle che sono state le conseguenze di una pandemia molto dura ma anche nei confronti di una società che è sempre più complessa e che mette le persone in condizione anche di aver bisogno di un aiuto in alcuni passaggi della loro vita e il chiedere l'aiuto di un terapeuta, di uno psicologo deve diventare qualcosa di naturale come chiedere a un medico di base proprio perché è necessario uscire da questa bolla di anormalità che sembra circondare delle volte le persone maggiore attenzione deve essere dedicata ai giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini e su questo sono contenta che siamo andati dietro a una scia che aveva inaugurato il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura quando nel piano strategico della sanità era stata dedicata solo una scarna pagina alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza quindi questo è un grande passo avanti e siamo contenti che nel preambolo sia precisato questo passaggio Credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione ma anche alle tante questioni irrisolte Cito di nuovo la questione del 118 che era esplosa per esempio nel Chianti una mozione che ancora oggi non ha visto il pronunciamento della Commissione Sanità benché sia un tema che ha visto anche la raccolta di firme di un intero territorio ecco, la mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana Il Consiglio è partito in piena legittimità su altri presupposti Io ho ritenuto come dire di lasciare che questa proposta fosse abbracciata dalla maggioranza ma di non di fatto condividerne non tanto il contenuto ma soprattutto le premesse da cui si parte quando si regifera in materia Restiamo su temi legati al mondo della sanità con la commissione dedicata del Consiglio regionale che inizierà nei prossimi giorni un vero e proprio tour in tutte le principali strutture della Toscana Prenderai il via questo martedì 15 novembre con la visita agli ospedali di Grosseto e Massa Marittima e il giro della Commissione Sanità del Consiglio regionale nelle strutture ospedaliere della Toscana che prevede incontri con operatori e professionisti nei presidi ospedalieri e territoriali regionali allo scopo di conoscere da vicino criticità e eccellenze del sistema sanitario L'iniziativa è stata presentata nella sede del Consiglio regionale dal Presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo e dal Presidente della Commissione Enrico Sostegni Questo viaggio nei territori è un modo per mandare un messaggio chiaro soprattutto ai professionisti e alle professioniste della sanità a coloro i quali ogni giorno in questi anni ancora di più che nel passato sono stati in prima linea e richiedono risposte risposte dal punto di vista delle risorse che noi mettiamo in campo lo diceva prima il Presidente Sostegni di quanta fatica si fa nel reperire queste risorse e a loro dare risposte e dargli una prospettiva questo viaggio serve per conoscere le criticità ancora di più che ci sono nel sistema le eccellenze che produce il nostro sistema per fare anche programmazione perché poi il nostro compito è questo quindi io ringrazio il Presidente Sostegni perché non sarà uno sforzo banale quello di andare in tutti i luoghi della sanità toscana luoghi fatti di eccellenze ma anche di criticità da conoscere e cercare di superare ringraziando lui ringrazio anche tutta la Commissione perché svolgono un lavoro importante e spesso lo fanno come dovrebbe essere nelle istituzioni senza cappello politico diciamo partitico ma cercando di mettere il cittadino al centro e di dare le risposte che servono Parliamo anche del lavoro del Corecom nel corso degli ultimi cinque anni sotto la guida del Presidente Enzo Broggi è stato fatto un bilancio proprio di tutti i provvedimenti più importanti e di come è arrivato l'aiuto anche a tanti utenti uno tra i provvedimenti più importanti senz'altro è stato quello del patentino digitale patentino digitale nelle scuole premi alla buona comunicazione nuovi linguaggi vigilanza sulla parcondiscio e risoluzione delle controversie telefoniche sono state queste alcune tra le principali attività che il Corecom guidato dal Presidente Enzo Broggi ha portato avanti dal 2017 al 2022 e che sono state illustrate nella sede del Comitato Regionale per le comunicazioni dove la sala dell'accoglienza è stata intitolata Omar Calabrese primo Presidente del Corecom una grande persona che ha dato un impulso fortissimo al Corecom alle persone che vi hanno lavorato da lì siamo partiti cerchiamo di portare avanti e sono sicuro che chi ci seguirà saprà dare un contributo ancora maggiore siamo nati vent'anni fa quando ancora c'erano i telefoni a gettoni e il PC era uno storico e nobile partito dell'altro secolo quindi abbiamo provato a modificare il modo di comunicare il nostro lavoro noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini e aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti errori e ritardi di comunicazione ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale e chiudiamo con la presentazione di un libro in Palazzo del Pegaso quello dedicato alla vita politica e non solo di Lelio Lagorio La prima biografia completa di Lelio Lagorio nell'anno in cui ricorre il quinto anniversario della sua scomparsa è stata presentata nell'auditorium dell'Assemblea Legislativa Toscana scritto dai giornalisti franco-mariani Alessandra Maria Abramo e frutto anche della collaborazione della famiglia il volume Lelio Lagorio un socialista tricolore è pubblicato nella collana editoriale del Consiglio regionale Lelio Lagorio è stato un personaggio politico rilevante a livello nazionale anche internazionale a cui noi tenevamo dare appunto un ricordo con questo testo personaggio di grande conoscenza e di grande competenza un vero e proprio gentiluomo e sicuramente un grande uomo di Stato Per chi come me ha conosciuto direttamente Lelio Lagorio negli anni del suo impegno politico è un onore poterlo ricordare a distanza di cinque anni dalla sua morte il libro non è che una parte di tanto impegno per ricordare la figura di un grande statista ma soprattutto di un grande fiorentino che ha portato la fiorentinità a Roma al Ministero dello Spettacolo e della Difesa soprattutto e poi all'Europarlamento senza dimenticare però il periodo di impegno fin da banchi di scuola nel Partito Socialista poi Vice Presidente della Provincia di Firenze Sindaco di Firenze prima dell'alluvione Assessore durante il periodo dell'alluvione e del post-alluvione e soprattutto primo Presidente della Regione Toscana è stato anche un socialista eretico perché parlare di riformismo negli anni 70 e negli anni 80 quando c'era un partito comunista legato a Berlinguer ancora al marxismo-leninismo era una sorta di eresia e però Lagorio fu uno di quelli con Craxi che riuscì a imporre una posizione e a creare un binomio perfetto tra una politica nuova e il buon governo delle amministrazioni locali lui che era stato sindaco e poi anche del governo del paese io lo ricordo anche come Ministro della Difesa E con questo è davvero tutto la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui l'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana sempre su RTV38 grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulla nostra emittente arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.